Presidente, benvenuto nel suo nuovo ufficio. Per farla sentire a casa. Presidente, le linee non sono ancora pronte, per adesso non c'è campo. Non c'è campo. E io come faccio a giocare? Sì, sì, dopo ti spiego. Entra in rete anche tu. Con Dieccellotto puoi giocare online 24 ore su 24. Vai su diecellotto.it e prova a far vincere i tuoi numeri. Puoi cogliere il tuo momento fortunato dove e quando vuoi. Dieccellotto, questo sì che è un gioco. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.